Ciao a tutti, sono Elisa Montaldo e questa sera per la prima volta presenterò il mio disco solista che si chiama Fistful of Planets Part 1. È una bella impresa perché il mio disco è pieno di suoni, atmosfere, strati, ricerca sonora che ho compiuto da sola nelle stanze d'albergo da dove ho lavorato in Germania, in Svizzera, Italia, Trentino, Firenze eccetera. Questa sera ve lo proporrò in una versione molto molto intimista perché sarò da sola, quindi con l'ausilio della tastiera, io sono principalmente tastierista compositrice e poi per necessità cantante suonerò la tastiera, suonerò l'auto harp, suonerò il koto giapponese e l'uluse cinese. Quindi mi piace contaminare con diversi suoni di diverse culture una musica che racconta un po' i miei mondi. Diciamo che questi due anni sono stata una nomade per lavoro, per necessità e quindi è nato questo disco e questa è un'atmosfera, una specie di colonna sonora delle mie visioni in questi ultimi due anni.